Il premier Giuseppe Conte, venerdì 29 novembre, arriverà a Vallo della Lucania dopo aver ricevuto l'invito del senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello. Il premier Conte effettuerà una visita all'ospedale San Luca e poi raggiungerà il teatro dei Berardinis, dove saranno presenti i sindaci del Cilento e del Vallo di Viano, e dove si svolgerà l'evento Manifesto del Mezzogiorno, dove verranno presentate al premier dieci proposte essenziali per la lotta allo spopolamento delle aree interne del Sud Italia. Non si parlerà solo di abbandono del nostro territorio, ma si parlerà anche di altre criticità che affliggono la nostra terra, come il problema sanità e le questioni infrastrutture ed aeroporto di Ponte Cagnano, al fine di avere un intervento risolutorio da parte del governo, anche grazie all'imminente piano decennale straordinario per il Sud. Abbiamo invitato il premier per questo convegno propositivo, con proposte partecipate nel corso dell'interlocuzione diretta con i sindaci e dunque con il territorio. Poi, una volta avvarato il piano straordinario, inviteremo il ministro Provenzano a venire sul territorio, stavolta nel Vallo di Diano, per spiegare il piano adottato, i suoi tempi e i modi di attuazione e verificare se e quali nostre proposte saranno state accettate. Queste le parole del senatore Castiello, che con il Manifesto del Mezzogiorno punta in modo deciso a smuovere il governo, a salvare il Cilento e il Sud dalla futura desertificazione.